Il centro di medicina arriva da un anno a Valdagno, rileva CMR, ma dà anche una spinta a livello tecnologico. Sì, noi siamo arrivati qui da circa un anno e mezzo e siccome stiamo ristrutturando la struttura, ampliandola, quindi con altri quattro ambulatori, abbiamo visto che la mammografia era un po' datata, quindi abbiamo pensato subito di acquisire una nuova struttura tecnologicamente avanzata con il mammografo, con l'ottomosintesi e quindi oggi siamo qui a inaugurare questa nuova applicatura. Una tecnologia per il primo livello e per il secondo livello cosa possono trovare qui le donne del territorio? Noi siamo collegati alle altre sedi tipo Schio e Trissino, dove naturalmente le donne possono avvalersi di queste strutture per fare gli accertamenti di secondo livello quando hanno bisogno di fare un esame presso la risonanza magnetica. Oggi quindi la prevenzione è sempre più sul territorio e fatta da strutture come questa? Diciamo sì, la prevenzione è fondamentale e soprattutto si trova facilmente nelle strutture private, dove naturalmente c'è facilità di esecuzione ma anche di trovare le prestazioni volute. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!